Il Master in Game Design accreditato dal Moore vuole indagare l'universo e l'esperienza videoludica nelle sue più ampie dimensioni. Crediamo che sia centrale lavorare sul concetto di autorealità e formare degli studenti che siano dei tecnici, dei creativi e degli autori soprattutto. Potrete lavorare come game designer all'interno di studi di sviluppo di doppia e tripla A, applicare le vostre conoscenze nel mondo del cinema con la virtual production, nel campo dell'advertising e nel campo dell'arte con fondazioni e musei e come consulenti per aziende o le più diverse realtà che hanno bisogno del vostro aiuto. Affronteremo tematiche come le arti visuali e come queste interagiscono con il mondo del game, materie narrative di come si costruisce una storia, materie psicocognitive per indagare il rapporto tra fruitore e produttore di un videogame. In ultimo materie come antropologia e sociologia per indagare l'impatto culturale e i valori e i simboli e le metafore culturali che potrete inserire nei vostri lavori. All'istituto Quasar il rapporto docente-studente è 1 a 3. Questo vuol dire che la didattica sarà molto diretta. Riseguiremo passo passo, saremo sempre presenti in grado di stabilire delle relazioni dirette e umane. Non sprecherai le tue energie, che verranno invece tutte investite nel consolidamento delle tue conoscenze pregresse e nell'apprendimento di nuove conoscenze. Alla fine di questo corso sarai formato come un progettista tutto tondo, in grado di coprire tutto il processo progettuale dall'ideazione alla produzione della tua idea. Alla fine di questo corso.